Prevenzione, lotta alla corruzione, favorire la legalità soprattutto negli enti locali è un po' il late motive della nuova organizzazione della prefettura di Salerno targata a Malfi. Questa mattina nella conferenza stampa il nuovo prefetto ha accennato a quelle che saranno le priorità, innanzitutto una grande collaborazione, una sinergia, una vicinanza ai sindaci di tanti comuni della provincia di Salerno che incontrerà a stretto giro. Questa mattina alle 10 ha incontrato il presidente della provincia Giuseppe Canforo, un incontro che ha definito già operativo più che istituzionale, ha incontrato il sindaco della città Capoluogo, ha incontrato il presidente della provincia, questa mattina provincia, un ente che dovrà necessariamente avere un'altra funzione tende a scomparire. Tendo a scomparire, questa è una scelta che farà il Parlamento, noi con il presidente della provincia sulle tematiche fondamentali di sicurezza della circolazione stradale, di sicurezza delle scuole e protezione civile perché fin quando non scioglieranno alcuni nodi la protezione civile la facciamo assieme su queste tre funzioni che sono indispensabili per un territorio e che ci vedono lavorare assieme. La sicurezza della circolazione stradale, voi sapete quanti morti è una delle malattie più gravi che ci sono nel paese e anche un costo economico per il paese straordinario perché oltre ai morti hai feriti e hai tutte le persone più inabili al lavoro e quindi ha un costo enorme. Quindi la progettualità in termini di sicurezza della circolazione stradale, di sicurezza delle scuole che è uno dei valori, una società non può esistere se i propri figli non vanno in un luogo sicuro e assieme quindi ai vigili del fuoco, non ho già parlato perché vi è tutta la problematica della prevenzione incendi e della sicurezza nelle scuole, tutto questo noi lo continueremo a fare. Ho trovato un presidente della provincia che è anche un sindaco di una città particolarmente colpita e quindi particolarmente sensibile sull'argomento e quindi la sintonia è stata immediata, anzi più che un incontro istituzionale con lui stamattina è stato già un incontro operativo perché già siamo entrati nel merito di vari aspetti. Ho avuto già la disponibilità ovviamente del sindaco capoluogo di provincia perché hanno una strutturazione, un'organizzazione che è una risorsa e la disponibilità è stata piena, i suoi dirigenti mi sono sembrati di eccellente qualità e io non sono uno che fa complimenti, dico purtroppo quello che penso e mi sono sembrato molto validi, quindi sarà una risorsa importante che metteremo assieme, prefettura, amministrazione del capoluogo, provincia e le città più grandi per mantenere sicuri i territori di tutti. Lei ha fatto un riferimento importante di grande apertura e vicinanza alle amministrazioni locali e ai sindaci, alle comunità locali. Sarà mio compito andare a parlare con i sindaci per ascoltarli, per sentire i loro problemi, per aiutarli dove hanno bisogno, ma anche per trasferire alcuni valori fondamentali, perché ricordo a me stesso, come tutti i sindaci ben sanno, che loro sono i primi cittadini nella loro comunità, ma a contempo sono anche i primi apparati dello Stato sul territorio. Quella fascia che loro indossano rappresenta i voti, la rappresentanza popolare, ma l'essere cittadini dell'intera comunità e di essere anche la prima articolazione dello Stato, perché il Paese regge solo se è unito. E il nostro Paese, fondato su più di 8.000 comuni, con un territorio molto più piccolo di tanti altri Paesi, non può che passare attraverso la cultura della collaborazione, sincera, trasparente e profigua, con le amministrazioni comunali. Chiaramente sarà fatto soprattutto sulle problematiche della sicurezza e della protezione civile, ma anche su tutte le forme di esercizi di libertà che potrebbero servire. E in più sulla cultura delle scuole, sulla sicurezza delle scuole. In questo modo sarà vicino ai sindaci, ci sono però due grandi comuni che sono particolarmente attenzionati in questa provincia, Varrovi Scafati e Battipagli? No, ci sono tutti i comuni attenzionati, non vi è una distinzione o una differenza. È chiaro che se si manifestano delle patologie, che la norma prevede, gli interventi, il Prefetto interviene con le procedure previste dalla legge. Ma nulla di strano, è nell'ordinamento che la funzione dello Stato, che si mantiene sulle prime articolazioni dello Stato, che sono i sindaci, nell'essere vicino ai sindaci, verifica che il sindaco sia il sindaco e sia, assieme alla sua amministrazione, il vero e reale rappresentante dei diritti dei cittadini. Se si verivano delle situazioni di patologia, per cui il sindaco smette di essere il sindaco, e non sto parlando di quelle amministrazioni, ma è una valenza generale, lo Stato interviene e riporta a democrazia quello che si è perso. Perché la democrazia significa che l'amministrazione comunale sia legittima rappresentanza dei suoi cittadini, dei suoi elettori che vogliono essere amministrati e non vogliono che i loro fondi e i loro risorsi vadano in altre finalità. Quando si crea questa patologia, l'intervento del Prefetto e del Ministero dell'Interno è di ripristino della democrazia per consentire, attraverso poi l'esercizio del voto che ci sarà dopo, di ritornare nella democrazia del nostro Paese. Quindi è tutto funzionale a togliere una patologia della non-democraticità che si è realizzata quando vi è uno sviamento verso il fine istituzionale del sindaco e di un'amministrazione.